Ciao ragazzi, benvenuti benvenuti sul mio canale e io sono Magrus visto che siamo praticamente quasi in dirittura di arrivo per ciò che riguarda il 21 di maggio naturalmente non per il tempo perché fa ancora un freddo glaceale sappiamo che il 21 di maggio uscirà Team Sonic Racing un gioco di gare ma diverso dal solito gioco Sonic infatti per esempio su alcune ho letto alcune battute sotto questo gioco che Sonic andrebbe sicuramente più veloce naturalmente commentate un bel commento, un bel mi piace perché è diverso? Perché generalmente in passato ne hanno fatti di diversi giochi Sonic c'è stato un periodo in cui ne hanno fatti veramente una marea ne ho scelti alcuni praticamente mi ricordo un po' ma non tanto Sonic Adventure mi pare che il 2 era quello più carino però c'è stato un periodo intorno al 2010-2011 che tipo ne hanno cacciati una marea ce ne sono tanti io volevo provare insieme a voi Sonic 2 Adventure Sonic Adventure 2 e non so se ci avete giocato e tra l'altro lo acquistate anche perché ho detto che a un prezzo abbastanza basso si dovrebbe girare Team Sonic Racing intorno ai 35€ quindi dovrebbe essere un prezzo abbastanza abbordabile tra l'altro poi ci dovrebbero essere anche gare online ho visto che attraverso dei vari gameplay ci potrebbe essere cioè c'è anche la modalità storia che spero che non sia uguale un po' a quella di Cars o meglio sia più uguale a Cars il primo e a No Cars il secondo e il terzo perché il terzo soprattutto era un po' più bruttino detto questo partiamo con Sonic Adventure 2 SIGMA ALPHA 2 ci sono alcuni giochi che ti mancano sempre secondo me tra l'altro non so ci saranno parecchi comandi quindi ci saranno lavorare parecchio speriamo di no frenare non dovremmo avere problemi occhio 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 eh bene se mi ti metti davanti orca miseria non pensavo di fare sto danno esagerati ok occhio occhio troppa velocità troppa velocità ho combinato un macello va bene allora comandi comandi ok la tengo premuto ok non ho beccato una mazza ah dobbiamo stare attento qua usare i pezzi mazza che musica beccato anche di qua vai allora se scendo qua sopra ci vado no non posso andare di sopra vabbè fai oh no invece si ok ok allora aspetta vado a fare di qua occhio ma che non giri aspetta che non ho capito no 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 vabbè però ok allora non vado male così ok bella questa bella questa vabbè frenare non c'è bisogno di frenare dobbiamo andare tutta a birra no bella puntino occhio da queste parti oh e andiamo non l'ho becchiata eh ma se mi mettete davanti così diventa complicato non siamo per niente bravi no oh attenzione alla macchina attenzione alla macchina oh 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 ok poi è andato quasi bene porca paletta oh oh ah devo invertire ma vabbè volevo cambiare un po' la una modalità e non mi riesce oh oh aspetta che qua c'è qualcuno ed è invertita la mobilità quindi abbiamo difficoltà ciao ok ok porca paletta dove andiamo allora ah volevo beccare quello però penso che vado un po' in difficoltà magari riesce a salire ok oh porca ah non mi dai il coso ahiaiaiaia mi stavo schiantando ok vai vai attenzione alle macchine no beh la difficoltà c'è tutta eh perché e vai mi sono bloccato ok attenzione qua ci potrebbe essere qualcuno becchiato dove cavolo oh abbiamo rischiato la morte ragazzi ok attenzione attenzione oh speriamo di non avere ok ma qua dovrei poter scivolare sopra ok ah che peccato potevo fare una gun oh potevamo fare una cosa esagerata ah qua non so sinceramente che cosa potremmo fare aspetta ok che cavolo ah ah non ti far male ok ok e se mi ricordavo bene che è sempre stato abbastanza frenet non essere scorretto ahia allora la vedo male qua ok ve l'ho detto che la vedevo male ok oh grazie ciao no vai sopra vai sopra ok 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 così almeno sto più tranquillo e già dai ci vuole sensibilità ok ce la facciamo adesso grande no attenzione che attenzione di là che che cavolo sta succedendo no 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 ok ok abbiamo un tiro dietro oh no 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 vai rapido rapido ti prego ti prego non so se riusciremo a beccare sa salvo goal porca miseria mi ricordavo che era abbastanza frenetico porca paletta no problem eh Rango D Rango D fa schifo ragazzi eh vabbè ma mi ricordavo che comunque era complicato bisognava prenderci la mano poi il fatto che abbiamo l'asse delle Ipsons invertito eh prima si giocava così oh porca paletta oh porca paletta ma come lo distruggiamo ma prima o poi tipo si abbasserà no ok ma non così penso oh non credo che lo sto distruggendo eh perché vedo che il suo livello di energia è sempre uguale ahia attenzione ok se mi atterri mi fai un piacere ok l'ho beccato ok a media che ci allontaniamo quindi appena atterra lo distruggiamo forse occhio occhio speravo che ti finisce la benzina vai non così non così non l'ho beccato no non l'ho beccato porca paletta vabbè ci è andata male questa partita però forse avrei dovuto attaccarlo un pochettino più nella cabina spero naturalmente che questo video vi sia piaciuto scrivetemi sotto nei commenti se anche voi state aspettando questo gioco team sonic racing naturalmente come se non vi è un video questo è un bel commento un bel mi piace ci vediamo al prossimo video bye ciao